Pagelline, pagelline, pagellone, pagelle in generale di questo Juventus Verona, pagelle in presa diretta perché come vi dicevo in questo momento io sono arrivato a Torino per andare a giocare la partita di YouTuber League contro il Milan quindi fatemi un grosso in bocca al lupo nei commenti e fateci un grosso in bocca al lupo nei commenti e ovviamente se siete di Torino ci vediamo alle 14.30 al Varano Sporting Village per questa nuova partita che speriamo di riuscire a portare a casa al pari della Juventus dato che la Juventus è venuto per 1-0 contro l'Elas Verona ci sono diverse cose da dire io già ieri sera vi avevo detto che non ero soddisfattissimo della prestazione felicissimo della vittoria poi guardando anche un po' la classifica in questo momento sia quella reale sia quella del campo ho la lenta sensazione che davvero la Juventus sia la seconda forza di questo campionato alle spalle del Napoli che sia la miglior squadra in Italia dopo il Napoli e anche questo mi fa un attimino pensare a quello che è il livello attuale della Serie A perché la Juve con e senza penalizzazione rischia di arrivare in Champions in ogni caso Allegri nel post partita ha detto e vabbè tanto prima o poi inizieranno a vincere anche quelle altre non è che possano perdere sempre sembrava una battuta e forse magari è pure una battuta ma è pure una constatazione vera e propria perché continuiamo a recuperare punti sull'Inter continuiamo a recuperare punti sulle altre squadre ma questi a un certo punto si sveglieranno no? sembra quasi di vedere come a mai dire tutti i pattinatori che scivolavano uno dietro l'altro per poi far vincere la medaglia a uno che non era mai caduto ma sicuramente non era più forte perché era sempre rimasto indietro mi sfugge in questo momento il nome del pattinatore ma è famosissimo una sorta di meme vi invito a guardare anche il post partita ovviamente che è uscito vi lascio il link qui sopra nelle schede o comunque troverete tutto sul canale 5 e mezza d'Allegri perché non mi è piaciuta non mi è piaciuta la partita io credo che la Juve nonostante le assenze in casa contro l'Ellas con questo Ellas qui debba per forza di cose far di più non posso accontentarmi di due o tre occasioni da gol importanti mi viene in mente la traversa di Danilo comunque nata da un calcio di punizione deviato mi viene in mente il gol effettivamente che la Juventus è andata a concretizzare mi viene in mente la palla gol di Bremer sull'assi di Gatti ma se poi vado a fare il computo vado a fare il conto il resoconto delle azioni davvero offensive create da questa Juventus e che me ne vengano in mente tante altre sicuramente qualcosa mi sto perdendo ma la Juventus non è riuscita a creare chissà quali pericoli nei confronti dell'Ellas sicuramente la Juventus arrivava in un momento non facilissimo a livello di formazione perché comunque aveva Di Maria che era rientrato tardi Alexandro che era stato fuori tanto Rabia e Paredes qualificati Chiesa che ancora non è al 100% Mili che era una vita che non giocava quindi sicuramente la Juve a livello di uomini non era nella migliore delle occasioni però io guardo le due rose guardo le due squadre quello che possano mettere in campo e mi rifiuto di pensare che l'Ellas Verona possa riuscire a fare una partita se non superiore tantomeno pari alla nostra che non sia riusciti a chiudere Allegri l'ho visto bello sorridente tranquillo beato ma io sono contento per lui perché tranquillo io non sono serenissimo guardando il calendario quello che ci attende quello che ci aspetta quindi sicuramente serve fare qualcosina di più non mi è piaciuto tantissimo nemmeno Barrenecea buttato lì nella mischia a girare per il campo io me l'ho aspettato davanti alla difesa forse è stato giusto così nel senso che Locatelli davanti alla difesa ha fornito un'altra prestazione meravigliosa però siccome Barrenecea ne ha risentito tanto e poi vedremo anche nella valutazione però scelte da Allegri non mi hanno gasato tantissimo anche De Sciglio titolare che siccome ha fatto molta fatica non lo so sono un insieme di cose che mi fa dire che sì la partita la porti a casa i tre punti le porti a casa ma per la subicienza probabilmente serve qualcosina di più anche perché davvero si gioca tutta qua la stagione si gioca tutta su aprile punto 7 Cesni è già il fatto che il portiere della Juventus in casa contro la terrestre ultima in classifica con queste difficoltà qui si prende a 7 si prende a 7 e con degli interventi veramente di livello ti fa capire anche che tipo di partita è venuta fuori alla fin fine quindi reattivo determinante importante imponente bravo Wojtek che si fa trovare pronto è una notizia sicuramente positiva il fatto che Cesni abbia risposto alla grande meno positivo è il fatto che la Juve in casa debba davvero ricorrere in una partita del genere a degli interventi veramente importanti a parte del suo portiere senza mai riuscire a chiudere questa gara qua ne sarebbe praticamente nemmeno andata vicina a gestirla al meglio questa gara qui 6 mezzo a Gatti che dopo l'Inter dopo il Friburgo trova giunge alla lista anche l'Ellas Verona secondo me si ricandida anche alla partita con l'Inter anche se poi rientro l'Alexandro potrebbe far cambiare idea ad Allegri però a me Gatti sta convincendo anche la partita con l'Ellas secondo me è stata super convincente un 6 e mezzo se lo porta a casa giocatore che si sta ritagliando il loro spazio giustamente a suon di prestazioni positive ha rischiato di rimettere a referto anche un assist tra l'altro buona personalità anche mostrata a Gatti in questa partita un paio di volte pressato agli avversari è uscito bene in disimpegno quindi molto molto bene 6 mezzo a Bremer che un paio di sfarfallate quel colpo di testa nel primo tempo che va in rimessa laterale quell'altro non so nemmeno come chiamarlo tiro al volo di Parastinco che poteva veramente chiudere i giochi però per il resto solido compatto la solita prestazione positiva di Bremer in anticipo in aggressione Lasagna sicuramente è stato anche un avversario scomodo anche Gaic ci ha messo del suo comunque sembrava che l'Ellas a livello fisico stesse veramente molto bene atleticamente sembravano dei giocatori freschi che andavano credo che Bremer il 6 mezzo se lo porti a casa ugualmente così come se lo porta a casa Danilo che lo puoi mettere a destra lo puoi mettere a sinistra lo puoi mettere a centro davvero lo metti dove ti pare anche centrale la difesa 4 l'abbiamo visto in questa stagione le prestazioni te le fa sempre al 100% e vicino anche al secondo gol su punizione in stagione dopo quello con l'Atalanta sarebbe stato forse fin troppo bello immaginarsi un gol del capitano su punizione davanti al capitano però non ci siamo riusciti peccato se lo terrà magari per l'Inter in Coppa Italia vediamo voto 5 De Sciglio De Sciglio mi è sembrato in netta difficoltà ma proprio difficoltà seria sia a livello tattico sia a livello fisico perché mi sembrava veramente un giocatore fuor d'acqua quelle rare volte che ho visto toccare il pallone tante volte l'ha perso e ha regalato il possesso della sfera agli avversari addirittura anche con le mani un paio di volte ho visto De Sciglio in difficoltà sbagliare regalare la rimessa non la migliore prestazione di De Sciglio assolutamente credo che sia stata anche la volontà di far rifinire la partita per via dei prossimi impegni e quindi preservare la condizione fisica di Quadrado e non rischiare Kostic dopo quell'infiammazione al tendine non credo che lo vedremo nella partita di Coppa Italia con l'Inter non credo nemmeno che abbia fatto una gran partita questa sera con l'Ella su Verona 6-0 a Fagioli perché non è stata la miglior prestazione di Fagioli a un certo punto ho visto che ha iniziato ad accendersi a aumentare il giro il motore ma secondo me siamo lontani da quello che è lo standard a cui ci ha abituato Fagioli secondo me la mancanza di Ravio l'ha un po' penalizzato e probabilmente anche il mood con il quale la Juventus ha affrontato questa partita perché mi è sembrato vedere un mood molto lento molto tra una roba del genere nel senso che non mi sembrava la volontà da parte della squadra di fare la partita della vita portarla a casa non ho visto quella fame che ho visto invece in tante altre partite della Juve nell'ultimo periodo un po' deluso da questo punto di vista e secondo me Fagioli è stato risucchiato un po' da questo vortice ballata la sufficienza e l'insufficienza poco grave quindi invece questo è il migliore in campo secondo me perché ha fatto la prestazione migliore di tutti cioè proprio in tutte le fasi e in più l'assist il gol nasce da una sua invenzione un bellissimo passaggio di Miletti ma poi verticale Locatelli bravo bravo dentro il campo dar quella palla Moise Kem bravo c'è l'intera dire Locatelli sta crescendo in maniera spaventosa non so se è perché il nazionale non l'ha convocato ma già prima di quello stava facendo le ottime prestazioni abbiamo raccontato tante volte questa sera ha aggiunto anche qualità oltre che quantità Locatelli è forse uno dei giocatori migliori in assoluto di questa stagione si merita l'MVP di questa serata voto 7 e mezzo a Manuel 5 a Barrenecea invece che ha girato un po' troppo per il campo senza trovare la posizione a volte anche distratto se vogliamo impreciso non la migliore prestazione di Barrenecea che mi è sembrato più a suo agio davanti alla difesa mi è sembrato più un mediano non mi pare che abbia comunque compiti di regia all'interno delle sue caratteristiche mi sembra un giocatore che deve fare della rottura comunque del pressing degli ingressi magari anche in scivolata della lotta mi sembra questo il tipo di giocatore Barrenecea che è ufficialmente un giocatore della prima squadra tra Juve c'è stato anche un comunicato ufficiale sul sito per annunciarlo non mi ha ancora entusiasmato non mi ha ancora convinto se devo essere onesto all'interno di quelle che sono state le partite in cui l'abbiamo visto sicuramente può crescere può essere anche che diventi semplicemente un giocatore da rotazioni però io credo che anche queste possibilità che gli vengono date anche magari fuori ruolo perché davvero ripeto secondo me Zala non è il suo serve sfruttarle leggermente meglio sicuramente voto 6 a quadrado ancora lontano da quello che è lo standard che mi aspetto da quadrado a destra nel primo tempo ci siamo andati spesso volentieri proprio perché c'era quadrado ma vi chiedo quella precisione in più negli ultimi metri nelle giocate nei cross perché servono quadrado è il giocatore che ci può aiutare in questo il giocatore che può veramente cercare di migliorare anche lo score della Juventus sui cross sui calci da fermo stessi dove ha tirato quella punizione comunque si è alzata o tante punizioni ma tutte le altre quarte quindi i palli messi in mezzo qualcosa di più qualcosa di più 6 a Milik che aveva un'ora precisa e Allegri infatti dopo lo toglie dopo 59 minuti e 57 secondi praticamente proprio l'ora scattata Milik sicuramente non aveva ancora ritrovato la forma fisica migliore per un giocatore che quando viene a giocare su altre quarti a me piace sempre tanto perché abbassando si riesce ad andare a creare quel dialogo col centrocampo secondo me il centrocampo ha sentito la mancanza di Milik nel primo tempo che ha giocato un po' più vicino a Ken nel secondo un po' più di raccordo e abbiamo iniziato a migliorare qualitativamente la manovra non la partita migliore del mondo di Milik però un rientro importante secondo me la prestazione è da 6 ha giocato molto per la squadra poco per la gloria personale gloria personale che invece trova Moise e Ken già nel primo tempo mi era sembrato il giocatore in grado di raccogliere più spunti sempre palloni scomodi brutti da gestire però anche lui spalla la porta magari abbassava la testa e cercava di puntare guadagnare i metri tante volte l'abbiamo visto prendere palla e andare a puntare direttamente magari partendo dalla sinistra o fare del movimento portare sul pallone effettivamente magari procurarsi il calcio d'angolo cercare di far salire la squadra quindi ha fatto una buona partita di lotta e poi il match winner match winner perché la bella palla di Locatelli lui fa un bello stop e poi con lo portiere in uscita riesce ad angolare spiazzarlo buttandola nell'angolino basso come all'andata la risolve Moise Ken al ritorno la risolve Moise Ken le parole di Moise Ken mi sembrano parole di un ragazzo che forse ha capito che non ha più margine di errore non ha più tempo per sbagliare e che quindi vuole trovare all'interno magari anche di questa squadra quel qualcosa che forse gli è mancato in questi anni in cui è sembrato una promessa poi è sembrato un giocatore normale poi adesso sembra un giocatore che vuole giocarsi le sue chance secondo me Ken ha la possibilità di diventare un buon giocatore ma dipende da lui non credo che possa diventare un giocatore fenomenale di prima linea questo credo che non faccia parte di Moise Ken ma sicuramente un giocatore con delle caratteristiche interessanti proprio perché madre natura gli ha donato delle caratteristiche fisiche di un certo livello deve lavorarci sopra e il fatto che questa sera sia riuscito nuovamente a sbloccare la partita e a farcela vincere deve essere per lui un motivo d'orgoglio nuovamente squalificato era appena tornato praticamente dopo l'errore di Roma anche ieri Allegri aveva citato in conferenza stampa si fermerà nuovamente per un turno avrà magari la possibilità di partire titolare in Coppa Italia non lo so vedremo intanto Ken arricchisce il suo bottino di gol e fa vincere la Juventus leggevo da Zon che titolava Corto Moise terrificante arrestato il titolista voto 6 a Miretti che entra a fine primo tempo va a prendere il posto di Barnecea c'è stato un momento della partita in cui veramente sono impazzito Miretti si era smarcato molto bene De Sciglio non gli ha dato la palla quindi siamo stati costretti a rallentare l'azione poi si sono smarcati molto bene anche altri giocatori della Juventus De Sciglio non ha dato la palla e poi è stato costretto a scaricare in orizzontale su Gatti che ormai si era proposto Gatti è stato costretto a tirare per non perdere palla tiro belletario ma abbiamo veramente poche volte i giocatori che fanno quel movimento senza palla se poi non gli andiamo nemmeno a servire poi Miretti ha fatto secondo me un paio di errori troppo a livello tecnico all'interno del secondo tempo ma il gol nasce da lui nasce da Miretti che largo a sinistra centro-sinistra va a dare quella palla a Locatelli va a dialogare un centrocampo formato da Miretti Fagioli e Locatelli centrocampo italiano centrocampo Juventino nel vero senso nella parola mi aveva gasato come idea non mi è piaciuto troppo nell'esecuzione ma perché ripeto secondo me la Juventus ha girato sotto i giri standard delle ultime prestazioni di quello che ci ha abituato ultimamente con Locatelli che è stato costretto a veramente fargli straordinario un po' per tutti quelli che non c'erano e per quelli che hanno giocato sotto il loro livello 5 e mezza Di Maria non mi è piaciuto l'ingresso di Di Maria non mi è piaciuto l'ingresso di Di Maria ha sbagliato tanto ho visto anche un po' nervoso c'è stato anche un momento in cui ha fatto un fallo lui ha simulato per fare in modo di interrompere l'azione non lo so forse non era entrato nel mood della partita magari per il fatto che non era titolare forse non era nemmeno previsto il suo ingresso però non mi è piaciuto davvero non mi ha non mi ha dato le sensazioni che solitamente mi dà spero che in Coppa Italia con l'Inter Martini invece sia ispirato che possa essere il giocatore in grado di risolverci la pratica magari già all'andata per fare un ritorno tranquillo Votosea Vlaovic che invece lui è entrato si è dovuto mettere a disposizione della squadra solita lotta solita fatica perché poi quelle palle che arrivano lì alle nostre attaccanti sono sempre un incubo per chi veste la maglia numero 9 Vlaovic che aveva recuperato fiducia nazionale con qualche gol adesso non parte titolare proprio perché probabilmente Allegri voleva preservarlo risparmiarlo in vista della partita di martedì è Dele Dujan che deve farti valere Votosea Kostic che era stato risparmiato proprio per via dell'infortunio che era stato rilevato in nazionale con l'infiammazione del tendine Allegri ha detto comunque Kostic si è allenato bene in settimana ha fatto un solo differenziato si è allenato in gruppo nulla di preoccupante è però è partito comunque dalla panchina per magari rifietare magari non rischiarlo a me è sembrato comunque in ottima forma perché quando è entrato ha messo come al solito i suoi palloni importanti interessanti all'interno dell'area peccato che non ci sia stato lo spunto da parte nessun giocatore della Juve e questi ragazzi erano le pagelle di Juventus e Las Verona fatemi sapere nei commenti le vostre pagelle se siete d'accordo e soprattutto se siete preoccupati torno un po' alla tematica del video ieri sera perché io vedere delle prestazioni del genere in questo momento dell'anno e con il calendario che abbiamo adesso non sono proprio tranquillissimo di Juve di Juve di Juve